... ... ... ... O che ci sostituisce, o che ci explica, etc. E dico questo perché qui tutto che vedo, tutto, è obra di Pablo. l'obra, i cadros, le sculture, le pezze sono l'obra dell'e ma tutto il discorso, tutto il discorso della exposizione tutto il discorso della città ...e' una cosa determinata per non facerla, perché necessito non facerla per fare lo seguente funziona così, non è un po' complesso ...desconfio delas, perché sono cose che utilizzo come un'escara